L'intervento che noi chiediamo importante da parte della Regione Abruzzo che sia a fianco alle amministrazioni comunali e ai cittadini in maniera particolare perché non può essere che se non si fa una manutenzione a valle poi i costi ricadano sulle varie amministrazioni comunali della fascia costiera del Terramano ma anche del Pescarese. Questo è il contenuto della lettera che il consigliere Giorgio D'Ignazio insieme al collega Luciano Monticelli hanno indirizzato al Presidente della Regione a difesa dei comuni della costa abruzzese colpiti dai recenti nubi fraggi. Piogge intense che hanno riprodotto un fenomeno annoso come quello dei rifiuti spiaggiati. Nella lettera si ricorda come la scarsa manutenzione degli alvi fluviali finisca per danneggiare le spiagge delle località costiere dove si accumulano quantitativi incendi di detriti e di materiale legnoso. Insieme al collega consigliere regionale Luciano Monticelli abbiamo preparato una richiesta al Presidente dell'Aggiunta regionale dell'Abruzzo e all'assessore Mario Mazzocca. Questo perché la difesa del territorio non ha colore politico, è un interesse degli eletti quello di risolvere i problemi dei cittadini e quindi insieme in maniera bipartisan abbiamo deciso di lavorare insieme per la risoluzione di questo problema.